Acqua e territorio, perché è così importante questo rapporto? Perché l'acqua è un elemento essenziale e soprattutto un elemento naturale che troviamo, però ci sono molte persone che la sfruttano inutilmente, quando sanno già, tipo contadini, usano dell'acqua inutilmente, quando sanno già che il raccolto magari andrà perso. Quindi per me l'acqua è un elemento molto importante che ha la natura, che però bisogna conservare, perché è speciale, ci permette di vivere.